Dal libro Dottrina di Salvezza, volume 3, Joseph F. D. Smith Capitolo 10 I libri approvati dal Signore Il clero e i critici combattono la Bibbia I critici della Bibbia sono ispirati da Satana. La Sacra Bibbia ha avuto nel mondo più influenza e benefica di qualsiasi altro libro che sia mai stato pubblicato. Essa è stata stampata in più edizioni, tradotta in più lingue ed ha avuto un numero di lettori maggiore di qualsiasi altro libro. Nessun'altra pubblicazione è stata analizzata più severamente e con maggior senso critico. La ragione della grande influenza benefica della Bibbia è dovuta al fatto che essa è ispirata e contiene la parola del Signore ai Suoi profeti che sono stati fin dal principio i quali hanno scritto e parlato sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Per la stessa ragione essa si è attirata il fuoco delle critiche sfavorevoli. Se non fosse stata una storia ispirata, l'attenzione che le hanno dedicato i critici avversi sarebbe stata minore ed essi hanno tratto la loro ispirazione dall'artefice del male, il quale, sin dal principio, nella sua collera, giurò che avrebbe compiuto ogni sforzo per distruggere l'opera di Dio. Il clero apostatico si oppone alla pubblicazione della Bibbia. Non più tardi del secolo XIV, quando il mondo era dominato da un potere rispotico che non temeva né serviva a Dio, all'infuori del clero, pochi erano coloro sufficientemente distruiti da saper leggere e scrivere. I sacerdoti divennero gli avvocati, i diplomatici, gli ambasciatori, gli istruttori e i primi ministri delle nazioni. Tutti i uomini dotti parlavano e scrivevano in latino, la lingua di Roma. Dice la storia che per secoli un uomo, riconosciuto colpevole di reato in Inghilterra, se dimostrava di sapere leggere e scrivere, poteva chiedere il beneficio di un processo celebrato nei tribunali ecclesiastici. Cosa che, a causa di un prolungato abuso, significava l'essenzione dalla pena prevista dal diritto penale della terra. Con l'invenzione della stampa la cultura si estese e durante il periodo della riforma molte persone comuni impararono a leggere e a scrivere. A quel tempo i libri della Bibbia erano stati compilati e tradotte nelle varie lingue europee. La Bibbia di Wycliffe apparve nel 1330 e fu seguita in epoche successive da altre traduzioni su linea inglese che in altre lingue. All'inizio fu fatto un tentativo da parte del clero potente e corrotto per distruggere queste copie che erano state preparate senza l'imprimantur della Chiesa Cattolica. Prima dell'invenzione della stampa una copia della Bibbia costava 500 corone dopo il prezzo stese a 5 corone la quale cosa permise alla gente non soltanto di avere il privilegio di ascoltare la lettura delle scritture nella loro madrelingua ma anche di studiare per poterle leggere da soli. Gli uomini che venivano trovati in possesso delle scritture venivano mandati al rogo. Il cronista inglese Harry Nathan molti anni prima quando avvenne aveva denunciato la lettura generale della Bibbia aveva espresso il sentimento predominante circa la lettura delle scritture deplorando il fatto con queste parole affinché il gioiello della Chiesa fino ad ora proprietà esclusiva del clero e dei teologi non sia alla portata dei laici. L'arcivesco Arundel in Inghilterra aveva diramato un proclama secondo cui nessuna parte delle scritture in lingua inglese doveva essere letta né in pubblico né in privato e nemmeno tradotta pena la scomunica. La traduzione del Nuovo Testamento ad opera di Erasmo era proibita a Cambridge e il vicario di Croydon disse dal pulpito «Dobbiamo sradicare la stampa o la stampa sradicherà noi». Sotto il regno di Enrico VIII la lettura della Bibbia da parte della gente comune o di coloro che non appartenevano alla classe privilegiata era stata proibita da un provvedimento legislativo e sia in Inghilterra che in Olanda coloro che venivano trovati in possesso anche di una sola parte della scrittura venivano mandati al rogo. La pena di morte per il reato di lettura della Bibbia In varie parti d'Europa contro coloro che erano considerati negligenti nei doveri verso la Chiesa o eretici nella dottrina furono emessi e ditti che vetavano loro di riunirsi privatamente a scopo di culto. Motley nella sua opera The Rise of the Dutch Republic scrive «La lettura delle scritture, qualsiasi discussione dentro i muri della propria casa sulla fede, sui sacramenti, sull'autorità papale o su altre questioni religiose erano proibite appena la morte. Gli editti non erano lettera morta i roghi venivano tenuti costantemente accesi con materiale umano dai monaci che conoscevano l'arte di bruciare vivi i riformatori meglio di quella a discutere con loro». Il patibolo era il più decisivo dei filogismi e vi si faceva ricorso in tutte le occasioni. Proseguendo in questa descrizione delle terrificanti condizioni della ribelle Olanda o di altri paesi sotto il dominio spagnolo lo stesso autore disse Carlo V introdusse e organizzò l'inquisizione papale fianco a fianco con i terribili bandi di sua invenzione che costituivano un'inquisizione dissimulata ancora più crudele di quella della Spagna non fu mai permesso al sistema di esecuzione di languire il numero di olandesi che furono mandati al rogo strangolati, decapitati e sepolti vivi per la mancata osservanza degli ditti imperiali e per il reato di lettura delle scritture o per aver guardato di traverso un idolo o per aver messo in ridicolo la reale presenza del corpo e del sangue di Cristo nell'ossia è stato calcolato fin a 5.000 da parte di fonti autorevoli e non è mai stato fissato inferiore a 50.000. quindi è stato calcolato fino a 100.000 pensate condizioni come queste predominavano fra coloro che si professavano ministri della parola di Dio e insegnanti delle rivelazioni dei profeti e il Signore dichiarò che la gente doveva conoscere la sua volontà per mezzo dello studio delle scritture e i suoi discepoli insegnarono che esse erano state concesse per ispirazione di Dio che erano utili per insegnare la giustizia e che erano scritte espressamente per il nostro apprendimento malgrado la rigida e orribile dominazione delle età buie la gente continuò a stampare, a leggere, a studiare e a imparare molte cose intorno alle scritture finché la predicazione del vicario di Croyden non si adempì la Bibbia è approvata dalla rivelazione degli ultimi giorni le critiche e l'ombra del dubbio che oggi si stendono sulla Bibbia e specialmente sugli scritti di Mosè sono più intense che nei tempi passati le critiche massime hanno cercato di distruggere l'autenticità dei cinque libri di Mosè collocandoli in una data molto posteriore questa rivelazione fatta da Joseph Smith stabilisce l'autenticità delle parole di Mosè e per ogni vero santo degli ultimi giorni la questione della validità e della paternità del libro della Genesi e di altri libri delle scritture è un argomento risolto il Signore l'ha risolto per mezzo della rivelazione fatta nella dispensazione della pienezza dei tempi i santi hanno testimoni scritturali antichi e moderni durante il secolo scorso ed oltre c'è stata la tendenza ad analizzare le scritture ma a noi è stato insegnato che esse non possono essere interpretate privatamente né si possono capire se non per mezzo della luce del Santo Spirito il libro di Dottrina Eleanza, una delle opere più preziose si è pervenuto dal Signore esso contiene la parola di Dio diretta a noi che viviamo in quest'epoca quindi l'abbiamo con tre testimoni gli uomini possono attaccare la Bibbia come in effetti fanno per cercare di dimostrare che gli scritti attributi a differenti uomini non sono invece attributi a questi ultimi questo noi lo lasciamo a loro essi possono fare quello che vogliono della loro erudizione erudizione noi rimaniamo fedeli alla Bibbia perché sappiamo che gli errori che essa contiene quali che siani sono dovuti ad uomini non ispirati che ne hanno fatto la traduzione ma essi non devono e non possono interferire nel campo che è di nostra competenza essi hanno attaccato i libri mormon da un punto di vista esteriore asserendo che è stato tradotto o come dicono essi scritti da altri e non da Joseph Smith ma noi abbiamo confutato tale affermazione e il libro di mormon giunge a noi puro essendo stato tradotto per volontà divina esso contiene un'incontrovertibile evidenza interna per coloro che lo leggono e sanno qualcosa del potere e dello spirito di Dio esso giunge loro con la prova interna della sua divinità ed essi sanno che tale libro è vero quindi noi abbiamo il libro di mormon, la Bibbia e la Dottrina Alleanza tre testimoni che consentono la nostra religione di occupare una posizione diversa da qualsiasi altra religione sulla faccia della terra Interpretazione della Bibbia Insegnamenti allegorici e simbolici della Bibbia Anche i credenti più devoti e sinceri della Bibbia si rendono conto che, come moltissimi altri libri essa è piena di metafore, similitudini, allegorie e parabole che nessuna persona intelligente potrebbe essere costretta ad accettare in senso letterale Quando il Signore disse a Noè tutto ciò che si muove e la vita vi servirà di cibo io vi do tutto questo come l'erba verde intendeva forse Egli includere l'uso di animali immondi ed ogni erba velenosa che nelle sue foglie o radici contiene il potere di una morte atroce? Non dovremmo avere la libertà di interpretare queste parole così come facciamo con altre cose analoghe di altri scritti alla luce della saggezza e con un pizzico di logica guidate da altre cose scritte nella sacra parola attinenti allo stesso argomento le parole che Giacobbe disse ai suoi figli nell'atto di benedirli Giuda è un giovine leone, Issacar è un asino robusto Giuseppe è un ramo d'albero fruttivo vicino a una sorgente Devono forse indurci a credere che questi figli divendano letteralmente e rispettivamente un giovane leone, un asino robusto fra i tramezzi del chiuso un serpente, una cerva messa in libertà è un ramo d'albero vicino a una sorgente soltanto perché un tribunale nei famosi processi del Tennessee inerente all'insegnamento dell'evoluzione ha stabilito che la Bibbia deve essere interpretata alla lettera? Davide disse L'anima mia è in mezzo a leoni, dimoro tra gente che vomita fiamme in mezzo ad uomini in cui i denti sono lance e saette e la cui lingua è una spada acuta Secondo tali parole, i nemici avevano un aspetto davvero strano L'ecclesiate disse Il savio ha il cuore alla sua destra ma lo stolto l'ha alla sua sinistra Dobbiamo dunque prendere queste parole alla lettera? I simbolismi e le figure retoriche accrescono la bellezza della Bibbia Se per una dichiarazione costituzionale o per una sentenza di tribunale o per qualsiasi altra causa siamo costretti a interpretare letteralmente tutto quello che è scritto nella Bibbia allora Gesù è un agnello I farisei sono seppolchi e imbiancati che divorano le case delle vedove I santi sono pecore e agnelli e nel giorno del giudizio gli empi saranno trasformati in capri mentre le persone della propria epoca saranno trasformate in grano e zizzani Il Signore non ha privato della ragione coloro che credono nella sua parola Ehi vuole che tutti coloro che prendono su di sé il suo gioco abbiano buon senso Si dà accettare ogni figura retorica nella sua giusta collocazione e capire che le sacre scritture sono piene di storie e allegoriche di parabole intese e a rafforzare la fede e di discorsi artistici Gran parte della bellezza della Bibbia anche nelle traduzioni che sono giuste fino a noi si basa sulle meraviglie sulle meravigliose figure retoriche di questo tipo che non sono mai state uguaiate Per esempio leggete i salmi 19, 23 e 24 la disperata supplica di Giuda per la liberazione di suo fratello Beniamino i poetici voli di Isaia e il sermone sul monte Quale scritto vuole essere preso la lettera in ogni sua parte? Sarebbe cosa insipida e pertanto mancherebbe di ogni attrattiva naturale Aspettarsi che un credente nella Bibbia assuma un atteggiamento simile che creda che ogni parte del suo contenuto debba essere preso letteralmente e comportarsi da stupidi Nessun uomo in possesso delle sue facoltà considera la Bibbia sotto tale luce Molte verità bibliche sono andate perdute In nessuna parte delle scritture ebraiche secondo le traduzioni che ci sono pervenute esiste una che ha definizione di parole come anima, seconda, morte e castigo eterno parole sulle quali il mondo religioso è in disaccordo per mancanza di comprensione Perché gli uomini sono privi di questa comprensione? Non è forse perché essi proclamano che i cieli sono chiusi che non c'è più rivelazione che il canone della scrittura è completo e che il Signore non ha più dottrina da rivelare attraverso i profeti per la conoscenza e il bene dell'umanità? In verità essi gridano una Bibbia, una Bibbia non abbiamo una Bibbia e non vi possono essere altre Bibbie Essi si sono chiusi i cieli contro se stessi e dicono di essere sulla via stretta e angusta mentre brancolano impotenti nel buio Senza dubbio queste parole erano capite chiaramente dai profeti e dai santi uomini antichi i quali scrivevano e parlavano perché sospinti dallo Spirito Santo E' molto probabile che la corretta interpretazione di queste espressioni così come venivano usate dagli antichi profeti sia andata perduta nella trascrizione e nella traduzione delle scritture Nessuno può negare che i traduttori e gli amanuensi abbiano apportato cambiamenti secondo la loro umana comprensione Il libro di Mormon ci dice che le scritture ebraiche vennero dapprima degli ebrei e ai gentili in tutta purezza secondo la verità che è di Dio e dopo che ebbero lasciato gli ebrei subirono molti cambiamenti e furono tolte molte parti chiare e preziosissime come molte alleanze del Signore Se gli insegnamenti in regione delle varie sette sono contenuti in queste condizioni di essere uniti e d'accordo sul fatto che il canone della scrittura è completo dicendo abbiamo una Bibbia e non abbiamo bisogno di altre Bibbie essi sono costretti a raccogliere nozioni e contrastanti che non sono in armonia con il potere di salvezza del Vangero, del nostro Signore Versioni della Bibbia Noi tutti sappiamo che nella Bibbia ci sono errori dovuti a cattive traduzioni e all'ignoranza dei traduttori ma malgrado questo la mano del Signore è stata sopra questo volume di scrittura ed è straordinario il fatto che essa sia giunta sia a noi nelle eccellenti condizioni in cui noi la troviamo Guidati dal libro di mormone da dottrina alleanza e dallo spirito del Signore non è difficile per la gente discernere gli errori contenuti nella Bibbia la Chiesa usa la versione di Re Giacomo perché è la migliore traduzione fatta all'uomo la revisione della Bibbia compiuta da Joseph Smith per ordine del Signore non fu una revisione completa della Bibbia ci sono molte parti della Bibbia in cui il profeta non cambiò il significato laddove esso era inesatto egli la revisionò per quello che allora gli permise il Signore ed era sua intenzione andare avanti ma a causa delle persecuzioni ciò non fu possibile tuttavia tutto quello che egli fece è di grande aiuto perché gli errori principali sono stati corretti scelta delle rivoluzioni per la pubblicazione primi preparativi per la pubblicazione delle rivelazioni poco dopo l'organizzazione della Chiesa i membri erano ansiosi di avere copie delle rivelazioni fatte sino a quel tempo nell'estate del 1830 il profeta per comandamento divino cominciò a trascrivere ed a preparare le rivelazioni senza dubbio avendo in mente la loro pubblicazione alcuni anziani ne portavano delle copie nella sacca per quello che il Signore permetteva loro di portare perché a quel tempo c'erano certe rivelazioni che era probito far conoscere al mondo i giorni 1 e 2 di novembre del 1831 a Hiram Ohio si tenne una conferenza di anziani in cui fu decisa la compilazione e la pubblicazione delle rivelazioni e il primo giorno della conferenza il Signore dette la sua approvazione a questo progetto mediante una rivelazione che gli chiamò la sua prefazione al libro dei miei comandamenti che io ho dato loro perché siano pubblicati o abitanti della terra sebbene questa non fosse la prima rivelazione fatta a Joseph Smith essa appare come la prima di Dottrina Alleanza secondo l'usanza corrente di mettere la prefazione di qualsiasi libro all'inizio del volume Oliver Cowdery e John Wimmer furono incaricati di portare le rivelazioni a Independence missuri dove dovevano essere pubblicate il profeta si affrettò a scegliere ed a preparare queste rivelazioni affinché i fratelli potessero partire per i missuri intorno alla metà di novembre si cerca di pubblicare il libro dei comandamenti W.W. Phelps uno dei primi membri della chiesa faceva il tipografo egli era andato nel missuri e la macchina e i caratteri tipografici acquistati a Cincinnati furono portati per via fluviale lungo il chiume Ohio e per via terrestre attraverso il paese fino a Independence e le rivelazioni che erano state scelte dal profeta cioè la maggior parte di esse furono là composte ma il lavoro procedeva lentamente dobbiamo ricordare che quelli erano i tempi dei pionieri Kirkland distava dal missuri quando Salt Lake City dai quartieri d'inverno quanto punto dal quale i pionieri cominciarono il loro cammino verso le montagne rocciose per questa ragione ci vuole un po' di tempo nell'estate del 1833 la gran parte di questa rivelazione era stata stampata a quel tempo si ebbero dei tumulti e la prebaia distrusse la macchina da stampa disperse caratteri tipografici e distrusse anche la maggior parte delle copie che erano state stampate comunque alcuni furono salvate il libro si chiamava libro dei comandamenti pochissime pagine furono salvate sicché oggi di quel libro ne esistono pochissime copie per quanto mi risulta esse sono state soltanto 5 o 6 autorizzazione per la pubblicazione di dottrina alleanza nel 1834 fu nominato un comitato composto dalla prima presidenza della chiesa e da altri per potere nuovamente per preparare nuovamente le rivelazioni e per pubblicarle le rivelazioni la cui scelta richese qualche tempo furono presentate alla conferenza della chiesa dal 17 agosto 1835 e dalla medesima approvate quando il profeta fece questa scelta dichiarò che egli attribuio più valore a queste rivelazioni che a tutte le ricchezze della terra voglio leggervi soltanto una parola o due della testimonianza del consiglio dei dolci in merito a queste rivelazioni che furono accettate il 17 agosto 1835 noi dunque ci sentiamo disposti a portare testimonianza al mondo intero e all'umanità ad ogni creatura sulla faccia della terra che il Signore ha testato alle nostre anime mediante lo Spirito Santo versato su di noi che questi comandamenti furono dati per ispirazione divina sono di grande profitto a tutti e sono in verità autentici noi diamo questa testimonianza al mondo e che il Signore ci sia di aiuto ed è per la grazia di Dio il Padre e del suo figlio Gesù Cristo che ci è concesso il privilegio di portare questa testimonianza al mondo e di ciò si rileviamo stai pregando sempre il Signore che i figli uomini possano trarne profitto ciascuno appose poi la propria firma a cominciare da Thomas B. Marsh l'allora Presidente del Consiglio dei Dodici per finire con Lyman e Johnson il più giovane lezioni e articoli pubblicati insieme alle rivelazioni nel corso di questa conferenza fu deciso di includere nella pubblicazione di Dottrina Alleanza sette lezioni sulla fede tali lezioni erano state tenute nelle scuole degli anziani al Kirkland negli anni 1834 1835 nell'accogliere queste sette lezioni sulla fede fu detto chiaramente a quella conferenza che esse non erano da collocarsi sullo stesso piano delle rivelazioni ma che erano da considerarsi come un aiuto nello studio delle dottrine della Chiesa e con questo intendimento furono aggiunte a Dottrina Alleanza sempre in quella conferenza furono presentati anche due articoli i quali furono letti e approvati e quindi ne fu autorizzata la pubblicazione di Dottrina Alleanza uno di essi trattava del matrimonio l'altro delle leggi del governo questi due articoli apparvero in ciascuna edizione in Dottrina Alleanza dalla prima edizione del 1885 fino al 1876 dovremmo ricordare che queste lezioni sulla fede non erano rivelazioni e quindi fin dal principio non furono considerate tali anche i due articoli uno sul matrimonio e l'altro sulle leggi e sul governo non erano rivelazioni desidero imprimere bene questo punto nella vostra mente perché esso viene proposto continuamente specialmente da parte dei membri della chiesa riorganizzata i quali ci accusano di aver eliminato una rivelazione da Dottrina Alleanza l'articolo sul matrimonio non era una rivelazione e io voglio che non lo dimenticate mai Oliver Caldoli preparò l'articolo sul matrimonio questo che tengo in mano è una copia di Dottrina Alleanza pubblicato nel 1869 una delle ultime prime che fosse eliminata l'articolo sul matrimonio non dimenticate quello che sto per dirvi Joseph Smith e Freddie G. Williams uno dei consiglieri della prima presidenza non erano presenti alla conferenza ottenuta il 17 agosto 1839 perché si trovavano nel Michigan questo fa parte della storia sappiamo dove erano perché è scritto nella storia della chiesa così l'articolo sul matrimonio e quello sulle leggi sul governo furono scritti in generale da Oliver Caldoli in assenza del profeta John Smith e il profeta era all'oscuro dell'iniziativa presa relativamente all'inclusione di tali articoli nel libro delle rivelazioni come già abbiamo detto essi non erano rivelazioni e non furono mai considerati tali la loro stampa fu autorizzata in assenza di Joseph Smith il quale quando ritornò dal Michigan e apprese quello che era stato fatto questo lo ha preso da mio padre che a sua volta aveva ricevuto l'informazione da Orson Pratt ne fu grandemente turbato Orson Pratt e Joseph Smith mio padre erano compagni di missione essi viaggiavano insieme e così mio padre venne a sapere moltissime cose da Orson Pratt intorno al primo periodo della chiesa quando il profeta ritornò a Michigan e venne a conoscenza dell'ordine emesso dalla conferenza della chiesa non lo revocò perciò che riguarda le lezioni sulla fede il profeta ne sapeva qualcosa perché aveva collaborato alla loro preparazione e revisione prima che fossero pubblicate ma con i due articoli egli non aveva assolutamente niente a che fare perché fu eliminato l'articolo sul matrimonio al tempo di Naogu il signore dette a Joseph Smith una rivelazione sul matrimonio essa porta la data del 12 luglio 1843 questa però non è la data in cui fu data la rivelazione ma quella in cui fu registrata fu soltanto nel 1876 che essa fu inserita in Dottrina Alleanza la prima edizione di Dottrina Alleanza pubblicata nell'ovest del 1876 fu stampata da David O. Calder del Desert News Orson Pratt sotto la direzione della presidenza della chiesa al corpo delle rivelazioni ne aveva aggiunte moltissime altre quali oggi appaiono in Dottrina Alleanza che non erano state incluse nelle precedenti edizioni e la sezione 132 faceva parte di quelle aggiunte non sarebbe stato coerente lasciarvi l'articolo sul matrimonio dato che contraddiceva la rivelazione ricevuta dal profeta Joseph Smith e quindi molto giustamente venne tolto questa è una parte della storia che tutti dovremmo conoscere falsi insegnamenti dell'articolo sul matrimonio per dimostrarvi che tale articolo non è né poteva essere una rivelazione voglio leggervene qualche passo secondo l'usanza di tutte le nazioni civili il matrimonio è regolato dalle leggi e cerimonie dunque noi crediamo che tutti i matrimoni di questa chiesa di Cristo dei Santi degli ultimi giorni debbono essere celebrati in una riunione pubblica e o convito preparati per questo scopo io non credo affatto in questo noi celebriamo il matrimonio del Tempio del Signore presso l'altare noi non ci circondiamo di una folla e tale circostanza non è un convito e che la celebrazione debba essere compiuta da un sommo sacerdote presidente sommo sacerdote vescovo anziano o sacerdote senza peraltro proibire alle parti che desiderano contrare matrimonio di essere unite in tale vincolo da altra autorità io non credo in questo io credo che in ogni matrimonio di questa chiesa debba essere designato un sommo sacerdote che viene autorizzato da colui che detiene le chiavi a celebrare tale cerimonia per il tempo e per l'eternità presso la stare della casa del Signore e non in altro luogo naturalmente nel 1835 i santi non avevano né templi né cognizione delle cerimonie per il tempo e per l'eternità perciò Oliver Calduri va scusato per questo tuttavia questo articolo non è dottrina della chiesa né è ovvio può esserlo noi crediamo che non sia giusto proibire ai membri di questa chiesa di sposarsi fuori della melesima se così vogliono ma chi lo fa è considerato debole nella fede per il nostro Signore Gesù Cristo naturalmente noi non riteniamo corretto proibire alle persone di sposarsi fuori della chiesa ma dovremmo metterle in guardia contro tale pratica e persuadere a non farlo poiché questa chiesa di Cristo è stata accusata del reato di fornicazione e di poligamia noi dichiariamo di credere che un uomo debba avere una sola moglie e una donna un solo marito tranne che in caso di morte quando l'uno o l'altra sono liberi di risposarsi la prima rivelazione sul matrimonio plurimo naturalmente nel 1835 la chiesa non aveva alcuna dottrina sul matrimonio plurimo ma Orson Pratt disse questo io lo so da mio padre che era suo compagno di missione che il signore aveva rivelato a Joseph Smith prima del 1835 e prima del 1834 e già sin dal 1832 la dottrina del matrimonio plurimo il profeta parlò di questo ad alcuni fratelli tra cui Orson Pratt questi disse che il profeta gliene aveva parlato ma che tale argomento era rivelato come una legge e principio che a quel tempo non doveva essere reso noto alla chiesa o reso pubblico o messo in pratica se non più il là nel tempo io sono sicuro che Orson Pratt diceva la verità quindi sarebbe stato incoerente tenere qui questo articolo quando la rivelazione nota come la sezione 132 venne ricevuta dal profeta Joseph Smith e aggiunta alle rivelazioni di dottrine alleanze non è necessario che ora mi addentri in altri particolari inerenti alla storia di questa rivelazione basti dire che nel 1876 Orson Pratt disse divise dottrine alleanze in versetti quali appaiono ora nel libro di un edesimo successivamente furono mandati in Inghilterra per essere pubblicati sia a dottrina alleanza che il libro di mormon divisi nei versetti attuali e il libro di mormon diviso in capitoli entrambi con note a più di a piedi pagine questo accadeva nel 1879 quando le prime edizioni di dottrina alleanza e del libro di mormon con relative note a più di pagine a piedi pagine furono pubblicate a Liverpool Inghilterra dopo che fumo scacciati da Nauvoo fino al 1876 tutte le opere della chiesa vennero stampate in Gran Bretagna 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 Grazie a tutti.